E' stato pubblicato dall'ANAS il nuovo spot della campagna Guida e Basta, video realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato. L'impegno di ANAS per garantire sicurezza sulle nostre strade è costante e quotidiano, attraverso la manutenzione, il controllo e il monitoraggio delle infrastrutture, ha dichiarato l'amministratore delegato Aldo Isi. Ma si deve affiancare il comportamento corretto alla guida. Rispettare il codice della strada e guidare senza distrazioni non può essere un optional, ma un dovere di tutti. Anche il direttore del servizio polizia stradale, Filiberto Mastrapasqua, esprime la sua preoccupazione per l'aumento degli incidenti stradali verificatisi negli ultimi anni. Il fenomeno dell'incidentalità vede quale prima causa la distrazione eseguita dalla velocità. Telefonare, chattare o riprendersi mentre si guida sono comportamenti azzardati e pericolosi che devono essere evitati. Guidare con prudenza deve entrare a far parte del bagaglio culturale di ciascuno di noi, afferma Mastrapasqua. Il messaggio è chiaro, la distrazione, l'uso smodato del telefono e dei social durante la guida sono comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.